Signori, peccato, adesso si mette male, non possiamo dire, adesso è tosta Sarà difficile rimontare a ritorno, però dobbiamo provarci assolutamente Però dispiace ragazzi, dispiace soprattutto quando hai fatto pochi giorni fa una partita contro la Juve E l'hai vinta, è vero, l'hai vinta al novantesimo Però come dicevo, abbiamo vinto perché era anche la prima ragazzi Io vi ricordo che c'è sempre la motivazione di quando arriva il nuovo allenatore Quindi anche la squadra dovrebbe giocare con più voglia Poi può accadere di tutto in una partita, poi giochi in trasferta in casa della Juve Non è affatto semplice, diciamo che mi aspettavo sicuramente un po' meglio Ci abbiamo provato di più nel secondo tempo, ma siamo sempre là ragazzi Siamo sempre alle solite e posso dire comunque che un po' me lo aspettavo anche Perché non è che vinciamo una partita e diventiamo fenomeni I problemi li abbiamo e sono gli stessi di settimane fa Quindi dobbiamo purtroppo accontentarci Anche se mi dispiace perché probabilmente siamo fuori anche dalla Coppa Italia adesso Quindi o fai bene il campionato e salvi il salvabile Oppure te lo fai andare bene lo stesso questo campionato Però resta comunque una stagione deludente E poi magari se arrivi comunque in quarto che è quasi impossibile ormai Però oppure anche quinto e magari vai in Champions lo stesso Allora ti salvi, se no diventa una stagione un po' fallimentare Però lo stesso ragazzi, posso dire che quando ho visto la formazione Con tutto rispetto per Tudor Si ci sta a non far capire i giocatori che sono indispensabili Quindi tutti possono essere titolari e chiunque può andare in panghina Però diciamo che ti presenti in campo con un centrocampo così particolare Senza Luis Alberto a un certo punto della partita capisci che manca un po' di qualità Poi Immobile che è sempre in calo Cioè ormai lo vedo sempre più fuori dal progetto Quindi sicuramente secondo me al momento è ora di cambiarlo E far giocare Castellanos come titolare Perché capisco sì a provare magari si riprende Magari ritorna a quello di tempo fa Però arrivati a questo punto ormai Un anno ormai che non è più impattante come lo era un tempo Diciamo lo stesso apprezzo Tudor Che comunque prova a far giocare tutti i giocatori Soprattutto all'inizio Per far capire soprattutto i giocatori che devono dare il meglio in tutte le partite Poi purtroppo ragazzi Quando te trovi una squadra così Che ripeto non è che gioca benissimo Sappiamo tutti come gioca Allegri Gioca un bel calcio Però lo stesso In entrambe le partite di Tudor Io ho visto una Lazio che comunque ha più possesso palla rispetto a quella di Sarri E anche giochiamo più con tocchi rapidi, veloci Quindi questa cosa mi fa piacere Soprattutto magari non creiamo tanto Lo stesso problema dell'anno scorso Soprattutto quello che non riusciamo a segnare Non riusciamo a tirare in porta Perché se non tiri in porta non segni Però diciamo che con questo modo di giocare Io mi diverto anche di più Perché comunque quando hai il possesso palla Quando hai il pallino del gioco Ti sembra sempre che stai per creare qualcosa Quindi guardi anche più volentieri la partita Dopo difensivamente Soprattutto nel cambio nel secondo tempo Da quel punto in poi Casale non ha più capito niente E purtroppo capita La difesa 3 comunque è da poco che la facciamo Comunque abbiamo buoni difensori Ma ci può stare una partita No che la sbagli Però purtroppo Casale male Soprattutto nel secondo tempo Invece Invece ragazzi mi ha sorpreso Cioè come ho già detto anche nell'altra partita Sembra Provedel travestito Ma Provedel in forma addirittura Quindi se gioca comunque è giovane Può crescere molto E a questo punto dico Abbiamo un ottimo panchinaro in porta Che magari in futuro Potrebbe anche diventare il titolare Con Provedel in panchina Chi lo sa Invece ragazzi Romagnoli ha fatto il suo Patrick è bravo ad impostare Però vorrei dire una parolina Anche sulla Juve Perché comunque se ha vinto questa partita Un motivo ci sarà Cioè comunque hanno meritato Hanno magari creato qualcosina in meno Ci hanno provato meno Ma sappiamo come giocano Quindi è anche più difficile che creano Però sono più decisivi Sono più concreti Se segnano due gol in più Comunque vuol dire che hai meritato Sei stato più concreto E meriti insomma Poi quando hai Vlajovic Ragazzi è tutta un'altra cosa Infatti nella partita di campionato La Juve non aveva Vlajovic Sinceramente si ha vista la differenza Perché lui là è proprio Il classico numero 9 Che ti fa salire la squadra Si prende i falli Poi anche sottoporta È micidiale Anche non è sempre egoista Poi anche Chiesa Tra Chiesa e Vlajovic Sono due fenomeni là davanti Ovviamente fermarli Diventa difficile Purtroppo la Juve Ha dei singoli Attualmente che sono più forti Della Lazio Anche se noi Riusciamo a compensare Un po' con il gioco Che comunque anche se è da poco Che giochiamo insieme Riusciamo ad esprimere Un buon calcio Che sicuramente Potrà crescere molto Potremmo crescere Perché ovviamente Abbiamo un sacco di tempo Per migliorare Però è chiaro Che un progetto Quando lo si inizia All'inizio Si ha sempre Quella voglia Di far bene in più Che magari ti porta A vincere la prima partita E dopo Cale un po' Dopo ti dianzi Sei un po' a discontinuo Noi abbiamo tempo Vedremo anche A fine stagione Tireremo le somme Vedremo come Si farà il calcio mercato Insomma E anche da là Capiremo un po' Cosa si vuole puntare Veramente Con questo nuovo ciclo Però Come dico sempre Tempo è tempo Ragazzi ci vuole tempo Non possiamo pretendere Tutto subito E bisogna Aspettare Ovvio che Anche il modo di giocare Si assimila con il tempo Quindi tutto quanto Vedremo che accadrà E bisogna avere Un po' di pazienza Ragazzi Potrebbe essere Una stagione fallimentare Ma potremmo Fare dei piccoli Tasselli Per costruire Un futuro oroseo Chi lo sa Magari Speriamo Non mi voglio allarmare Più di tanto Per questa sconfitta Anche se dispiace Soprattutto quando Perdi 2-0 Quando Cioè in una maniera Un po' Per degli errori difensivi Che si potevano anche evitare Perché non è possibile Che te Durante una partita di calcio Contropiede così Della Juve E te Vedi che Con tre difensori Là al centro Trovi le parterie Cioè Diciamo che Non va tanto bene Però Anche la tattica Forse un po' Da rivedere Soprattutto in fase difensiva Ma lo posso anche capire Dai Perché siamo ancora All'inizio All'inizio del lavoro Però Il lavoro si vede col tempo Quindi ragazzi Detto questo Vi saluto Vi ringrazio Da Macaco Come nel tutto Sempre forza Lazio E ora Occhio al derby Quello sì Bisogna vincere E non ci sono scuse Perché quello È sempre È fantastico Ed è una partita a sé E non ci sono